Ciao, un saluto a tutti. Allora, prima di partire, vi invito al webinar di domani a ore 10, in cui vedremo una serie di titoli italiani da mettere in un watchlist. Per iscrivervi sotto nelle descrizioni c'è l'indirizzo. Esamiamo Banco BPM e Bami BPM, il time frame weekly candele giapponesi e vediamo subito in primis come sia stata sentita e validata la resistenza in area 2,55 euro, massimi pre-pandemia e massimi testati con la candela del 15 di marzo. Poi successivamente una pinbar ribassista, una shooting, quindi un'altra candela di rifiuto del prezzo e dopo ancora una candela veric, quindi una candela ribassista con un corpo esteso che peraltro forma anche un pattern engulfing con la precedente. La candela attuale, i massimi della candela attuale arrivano a metà della candela veric. ossia metà di una candela con un corpo così esteso, lo dico sempre, è un livello comunque di, in questo caso essendo il prezzo più basso, è un livello di resistenza. In assoluto una candela con un corpo esteso, la sua metà, è un livello da tenere d'occhio. Infatti i massimi di questa settimana testano l'amebono respinte. Abbiamo quindi comunque un impianto ribassista con una shooting, un pattern engulfing, un retest, il tutto posizionato sotto la resistenza di 2,55 e quindi ecco questo ci fa presupporre che in un'ottica comunque di un trend primario che è e resta rialzista, ci aspettiamo comunque una prosecuzione, una prosecuzione dello storno perché appunto il pattern retest si è appena formato, quindi sotto i 2,30, quindi sotto i minimi delle ultime due candele ci sarà spazio per un'ulteriore discesa. Questo livello, questo impianto sembra anche validato in maniera sorprendentemente precisa da Fibonacci, perché se noi andiamo a prendere i minimi della discesa della pandemia e portiamo il livello di 100 su questi massimi importanti, quindi discesa, pandemia, ripartenza, area 2 euro, quindi soglia psicologica, cifra tonda e così via, il prezzo ferma la sua corsa a 2 euro, lo testa ancora e poi riesce a romperlo, quindi questo livello importante è l'estensione da 0 a 100 e poi il prezzo va esattamente a 161,8 di Fibonacci sulla resistenza che abbiamo visto all'inizio del video. Ora credo sia difficile che si possa assistere a un nuovo rest, uno storno, quindi profondi fino a andare a riprendere il livello dell'estensione da 0 a 100. In questo caso si può, dando per importante e come più importante di tutti il livello aureo di Fibonacci, quindi il 618, possiamo andarlo a prendere tracciando dal massimo di 0 a 100 della prima griglia la partenza della nuova estensione, vediamo come un ritraccio al 618 di Fibonacci semplicemente porterebbe su un altro livello importante, cifra tonda dei 2,20, 2,980, lo 0 a 600 di Fibonacci. Detto questo, la precisione dell'impianto sembra da tenere in considerazione, sostanzialmente non vedo adesso opportunità rialziste, per quanto abbia rispetto quindi un ritraccio in area 2,20, dove lavorando a favore del trend primario ci sarà sicuramente da valutare un ingresso al rialzo, quindi attendiamo i 2,20 in ottica rialzista. Un saluto a tutti e buon trading!